buongiorno a tutti allora magliettina come sempre della settimana velocissimamente tanto la frase veloce veloce da leccarsi le orecchie e andiamo subito al campionato italiano perché il campionato italiano potrebbe dare l'ultimo responso attenzione perché c'è lo scontrone diretto questa potrebbe essere la giornata in cui o si riaprono i giochi o si chiudono definitivamente quindi partiamo subito bando alle ciance ciancio alle bande con le tre partite di sabato e poi facciamo quelle di domenica e lunedì che sono proprio quelle che in questa trentaquattresima giornata potrebbero dire come finisce la questione verona atalanta 2 anche se il verona è sempre da tenere in considerazione però la quota è abbastanza bassa 1 e 40 e in voglia al 2 cagliari sassuolo x2 milan bologna 1 però anche qui attenzione al bologna parma sandoria partita da tripla 1 2 breccia spal 1 x fiorentina torino 1 a mio rischio e pericolo genoa lecce 1 x perché francamente di mettere l'uno fisso anche se la quota è interessante è infatti l'ho messo della bollettina però siccome è una schedina non è la bolletta di quattro partite la schedina di tutte 10 preferisco metterci la doppia poi per i più coraggiosi che vogliono metterlo 1 ci può stare napoli udinese 1 a mio rischio e pericoli roma inter x2 a mio rischio e pericolo perché questa è una partita da tripla anche se l'inter è favorita ma è una partita da tripla juventus lazio 1 con l'opzione x che ci può stare però la juve è favorita la lazio non ne sta azzeccando una e forse attenzione proprio per quello attenzione alla sorpresa non me ne vogliano i tifosi bianconeri ma proprio perché la lazio non sta vincendo una partita da un pacco di tempo e visse considerato che hanno già vinto in campionato e li hanno li hanno battuti in coppa attenzione come si suol dire in supercoppa in supercoppa non in coppa in supercoppa finale di supercoppa italiana non diciamo nulla però resto dell'idea dell'1 x veniamo veniamo alla schedina alternativa verona atalanta gol perché l'atalanta è una squadra che ti fa quattro reti ma il gollettino lo prende sempre il verona è una squadra che non molla mai noi ne sappiamo qualcosa quindi il gol fa libidine cagliari sassuolo gol ci sta anche qua calcolate che vedevo l'ultima giornata il campionato c'è stato un dinese lazio 0 a 0 per il resto 37 gol in nove partite perché una è finita 0 a 0 le altre 9 hanno fruttato una media di quattro gol a partita quindi sento sempre come direbbe alta fini profumo di gol milan bologna gol perché il milan è un'altra squadra che il gol da pirla lo prende sempre poi dopo li fa e ci mancherebbe anche col parma 0 1 poi tatatata 3 a 1 con napoli 2 a 2 quindi il gol ci sta parma sandori a gol perché questa è una partita che si presta veramente al gol brescia spalla over 1 e mezzo anche se anche questa è una partita in cui le due squadre non avendo più nulla da chiedere al campionato e giocandosi la posizione virtuale tra virgolette dell'ultimo posto in classifica che nessuna delle due vuole penso che entreranno in campo e se la fioccheranno fiorentina torino over 1 e mezzo perché il torino ottima difesa un gran portiere la fiorentina una squadra che non è che ne segna tantissimi a parte con lecce settimana scorsa ma vabbè in lecce è un'altra squadra di quelle che prende una barca di gol e rifà il gollettino lo riesce sempre a mettere però prende ne prende sempre troppi quindi una partita da over 1 e mezzo forse anche da under 3 e mezzo vedete voi cosa scegliere io metto l'over perché mi fa libidire sempre mettere l'over però dopo ne parliamo poi genoa lecce gol perché questo è lo scontro salvezza si daranno un sacco di mazzuate si giocherà a calcio a calci a chi ne fa di più eccetera 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 chi segna l'ultimo gol vince eccetera napoli udinese over 1 e mezzo ci potrebbe stare anche l'over 2 e mezzo perché comunque il napoli una squadra che i gol li fa gli attaccanti ce li ha lozano si è anche risvegliato pure lui quindi l'udinese è tranquilla quindi andrà napoli a fare la sua bella partita e quindi ovvero 1 e mezzo ma volendo si potrebbe anche aumentare roma inter gol perché che ve lo dico a fa stiamo prendendo gol ogni 2 per 3 giusto con la spa non prendiamo gol però li facciamo fortunatamente li prendiamo e li facciamo e infine juventus lazio a mio rischio e pericolo gol perché io ho una gran paura che finisca 1 a 0 con gol di ribala al 93esimo 0 1 con gol di luis alberto appunto al novantesimo dopo una partita equilibrata in cui non è successo niente però mi auguro che per anche per lo spettacolo di chi a casa a vedere la partita escano tanti bei gol vediamo alle mie bollettine bollettine veloci veloci adesso perché vado via veloce milan bologna 1 genoa lecce 1 fiorentina torino 1 napoli udinese 1 con 5 euro 41 euro e 51 seconda bollettina milan bologna 1 genoa lecce 1 x fiorentina torino 1 x napoli udinese 1 con 5 euro 16 euro e 92 terza bollettina milan bologna 1 x piove genoa lecce 1 x piove napoli udinese 1 x piove fiorentina torino 1 x piove con 5 euro 19 euro e 0 8 volendo si può elidere la doppia o in milan bologna ma magari molto di più in napoli udinese e con 5 euro se ne andrebbero a vincere 24,22 se togliete la fissa mettete la fissa a milan bologna quindi 1 più over oppure 24,03 se la fissa la togliete a napoli udinese che è una cosa che vi consiglio l'uno più over di napoli udinese poi attenzione l'udinese magari fa lo scherzetto al napoli ma tra milan bologna e napoli udinese vedo più un 1 del napoli che non un 1 del milan se devo scegliere vedo più possibilità di una vittoria del napoli rispetto al milan sul bologna tenendo sempre presente che sono due partite da uno quarta bollettina milan bologna gol ospite si genoa lecce gol ospite si napoli udinese gol ospite si fiorentina torino gol ospite si con 5 euro 20 euro e 35 sapete che il gol casa gol ospite mi fa sempre libidine quarta quinta bollettina quale quarta quinta bollettina milan bologna gol più over genoa lecce gol più over napoli udinese gol più avere fiorentina torino gol più over con 5 euro 70 euro e 88 tutti e quattro i gol più over sono favoriti quindi danno per scontato che siano partite da gol ultima bollettina e qui le cose cambiano milan bologna uno più gol genoa lecce uno più gol napoli udinese uno più gol fiorentina torino uno più gol con due euro sanivin con 214,01 vabbè con 5 euro 535,04 attenzione perché milan bologna l'uno più gol o l'uno più gol sono alla pari a 275 quindi non ci sono le stesse probabilità secondo i bookmaker genoa lecce l'uno più gol è favorito napoli udinese viceversa presumo che temano che l'udinese non riesca a segnare al napoli perché con i bali and company faranno buona guardia quindi c'è quasi una differenza di uno tra l'uno più gol e l'uno più no gol a favore del no gol infine fiorentina torino è abbastanza alla pari l'uno più gol dell'uno più no gol però il no gol è leggermente favorito di 0 30 035 per intenderci quindi naturalmente abbiamo fatto anche l'opzione con il no gol lasciando invariato l'uno più gol del milan bologna quindi milan bologna uno più gol genoa lecce uno più gol napoli udinese uno più no gol e fiorentina torino uno più no gol in questo caso con 2 euro se ne vincono 145,72 con 5 euro 364,32 infine per i più coraggiosi che magari vogliono rischiarsi l'opzione gol per queste quattro partite quindi milan bologna gol genoa lecce gol napoli udinese gol e fiorentina torino gol con 5 euro se ne vincerebbero 39,45 detto questo io vi saluto vi ringrazio speriamo di vedere tanti bei gol anche nel prossimo in questo weekend sabato domenica lunedì e che dire buon calcio a tutti sperando che non si chiuda già il campionato a quattro giornate dalla fine perché sarebbe veramente triste 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 ciao